Musica Avevano fatto razzia di ruspe, scavatori, trapani ed altro materiale ma sono stati fermati dalla polizia stradale di Arezzo. In manette sono finiti due cittadini romeni che avevano rubato dei macchinari per l'edilizia da un cantiere di Ponte d'Era. I due avevano caricato tutto il materiale su due camion per dirigersi verso la 1. Avevano deciso di viaggiare a breve distanza tra loro in modo che se uno dei due fosse stato intercettato dalla polizia l'altro avrebbe potuto farla franca con la refurtiva. Ma una volta giunti a San Giovanni Valdarno una pattuglia della polizia stradale ha notato uno dei due mezzi che procedeva a zigzag. Gli agenti hanno così bloccato il primo mezzo e si sono resi conto che si trattava di merce rubata. Hanno chiesto rinforzi alla centrale operativa della postrada e intercettato anche l'altro camion che è stato fermato da due pattuglie della sottosezione di Battifolle. I due cittadini romeni sono stati arrestati per furto aggravato dalla polizia stradale che ha restituito gli escavatori, le ruspe, i due camion e tutto il restante materiale al proprietario. La merce sul mercato nero avrebbe fruttato ai due oltre 200.000 euro.